Fu questa una delle ultime apparizioni pubbliche di Beji Kaid e Sebsi. Era la fine di maggio quando il presidente tunisino prese parte a un vertice della lega araba alla Mecca in Arabia Saudita. Tra tutti i leader presenti era il più anziano. Quinto presidente della Repubblica di Tunisia, con mandato presidenziale dal dicembre 2014, Esebsi fu il primo scelto con libere elezioni nella storia del paese. Tre anni dopo la caduta della dittatura di Ben Ali con la primavera araba. La sua carriera politica inizia tuttavia molto lontano. Esebsi ricoprì diversi incarichi di ministro sotto la presidenza del padre della patria, Burghiba, guidando in periodi diversi interno, difesa ed esteri. Fu quindi presidente del Parlamento dal 90 al 91. Dopo un breve allontanamento dalla politica nel 2000, Esebsi torna sulla scena. La sua figura si impone con forza, soprattutto nel periodo successivo alla rivoluzione dei Gelsomini del 2010-2011. Il regime di Ben Ali viene rovesciato dalla protesta popolare e Esebsi viene scelto come primo ministro, guidando il paese fino alle prime elezioni libere, quelle del 23 ottobre 2011. Tre anni dopo la corsa alle presidenziali sotto la bandiera del partito da lui creato, Nida Tunis. E per Esebsi è un trionfo. Con il suo partito molto eterogeneo, cercò di creare una forza laica, pur mantenendo alcune abitudini proprie del vecchio regime. Tra critiche e consensi, a 90 anni pronunciò parole che rimasero nella mente di molti. Bisogna voltare la pagina del passato e guardare al futuro.